e adesso vediamo lì avanti se è pulita va ad arrivarsi anche lui qua ce n'era un'altra cattiva sia scendere e poi salivamo da sotto la propina pulirla vedi se andavamo da lì facciamo il pezzettino e poi là ce n'era una bella in piedi però mi sa che finalmente fa pulire anche qua la piccola c'è la piccola c'è la piccola non mi piace la piccola c'è la piccola la piccola la piccola Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, è un pezzettino di là, bisognerebbe pulire la valletta, quella che sentavamo e salivamo. Però c'è giù tanta roba, non è proprio... Vai a scendere di lì che ti caghi. Scendere di lì non è bello un cazzo. Perché non sei sceso di lì? Che c'è questa? Falla! Perché mi sembra di essere già caduto una volta lì.